Giorgia Ambrosoli, figlia della famosissima showgirl italiana Simona Tagli, si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. La sua presenza è sempre più notata e apprezzata. Nata nel 2005, Giorgia è immersa nel mondo dello spettacolo fin dalla tenera età. Ha partecipato a numerosi eventi e spettacoli, dimostrando un talento innato. Crescendo con una madre famosa, ha potuto vedere da vicino non solo il glamour del mondo dello spettacolo, ma anche la resilienza e la determinazione necessarie per avere successo. Ha imparato l'importanza del duro lavoro e della dedizione. Questa esposizione ha acceso in lei una passione, portandola a perseguire una carriera nello stesso settore che ha reso famosa sua madre. Giorgia ha iniziato a prendere lezioni di recitazione e a partecipare a audizioni. Il percorso di Giorgia è unico, segnato dall'eredità della fama della madre e dalle sfide che ha dovuto affrontare lungo il cammino. Ogni passo è stato un'opportunità di crescita e apprendimento. nonostante le pressioni di una crescita sotto gli occhi del pubblico, è determinata a crearsi un proprio percorso. Giorgia vuole essere riconosciuta per il suo talento e non solo per il nome che porta. Con un talento naturale per l'arte e una forte etica del lavoro, Giorgia è pronta a diventare una forza da non sottovalutare nel panorama dello spettacolo italiano. Il futuro sembra brillante per questa giovane stella in ascesa. Simona Tagli, volto noto della televisione italiana, ha affrontato le sue sfide personali nel suo percorso verso la maternità. Conosciuta per la sua carriera brillante e il suo sorriso contagioso, Simona ha sempre mostrato una facciata forte e sicura. Diventare madre a 41 anni non è stato un viaggio facile per lei. Le difficoltà fisiche e le pressioni sociali hanno reso il percorso ancora più arduo. In diverse interviste, Simona ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel tentativo di concepire e del peso emotivo che questo ha comportato. Ha condiviso le sue paure, le sue speranze e i momenti di sconforto. Tuttavia, la determinazione di Simona a diventare madre non è mai venuta meno. La sua forza interiore e la sua resilienza sono state fonte di ispirazione per molti. Ha cercato consigli e supporto medico, rifiutandosi di rinunciare al suo sogno di avere un figlio. Ogni visita medica e ogni consulto erano passi verso il suo obiettivo. La sua perseveranza è stata premiata e ha dato il benvenuto a Georgia nel mondo, dimostrando che la maternità può essere raggiunta nonostante gli ostacoli. La gioia di tenere finalmente sua figlia tra le braccia è stata indescrivibile. Questa esperienza ha portato una nuova profondità nella vita di Simona, plasmando la sua prospettiva e le sue priorità. Ora, ogni momento con Georgia è prezioso e pieno di significato. Crescendo con Simona Tagli come madre, Georgia è stata esposta al mondo dello spettacolo fin dalla tenera età. Ha visto in prima persona l'entusiasmo e le esigenze della carriera della madre. Questa precoce esposizione ha favorito un senso di familiarità con l'industria dell'intrattenimento, suscitando il suo interesse per l'arte. Simona, nonostante i suoi numerosi impegni, si è assicurata di creare un ambiente stimolante e positivo per la figlia. Ha instillato in Georgia i valori del duro lavoro, della dedizione e del perseguimento delle proprie passioni. Queste basi sono state fondamentali per plasmare la visione della vita di Georgia e il suo approccio alla sua fiorente carriera. Man mano che Georgia sbocciava come giovane donna, la sua creatività e il suo amore per l'arte cominciavano a fiorire. La sua innata passione per l'arte diventava sempre più evidente, manifestandosi in ogni aspetto della sua vita. Ha ereditato dalla madre il carisma naturale e la presenza scenica, qualità che l'hanno ispirata a esplorare il mondo delle arti performative. queste qualità l'hanno attratta dal mondo della recitazione e del canto, dove ha trovato il suo vero scopo. Per affinare le sue capacità, Georgia ha seguito una formazione formale, dedicando innumerevoli ore allo studio e alla pratica. Frequentando corsi e workshop per sviluppare il suo talento, ha imparato tecniche avanzate e ha ampliato le sue competenze. La sua dedizione al mestiere è evidente nel suo impegno ad apprendere e a migliorarsi continuamente, senza mai accontentarsi. Georgia coglie ogni opportunità per ampliare le sue conoscenze e perfezionare le sue capacità, sempre alla ricerca di nuove sfide. Che si tratti di frequentare laboratori di recitazione, dove può affinare le sue abilità drammatiche, di prendere lezioni di canto per migliorare la sua voce, o di immergersi nello studio di artisti affermati, traendo ispirazione dalle loro opere, è determinata a eccellere nel campo che ha scelto, dimostrando una passione e una dedizione ineguagliabili. Oltre alla passione per la recitazione e il canto, Georgia si è cimentata anche nel mondo della radio. Attualmente lavora come speaker radiofonica per una stazione rivolta a un pubblico giovane. Questa esperienza le permette di entrare in contatto con gli ascoltatori, di condividere i suoi punti di vista e di mostrare la sua personalità vivace. Lavorare in radio ha permesso a Georgia di acquisire una preziosa esperienza nella comunicazione e nel public speaking. L'ha aiutata anche a sviluppare la sicurezza in se stessa e ad affinare la sua capacità di entrare in contatto con il pubblico. Questa esperienza si aggiunge ai suoi altri interessi artistici, aggiungendo un altro tassello al suo crescente repertorio di competenze. Nel corso del loro percorso insieme, Simona Tagli e Georgia Ambrosoli hanno mantenuto un legame indissolubile. Nonostante le sfide incontrate, il loro rapporto rimane forte, caratterizzato da amore reciproco, rispetto e sostegno. Simona è sempre stata una costante fonte di incoraggiamento per la figlia, guidandola e offrendo le consigli basati sulle sue esperienze nel mondo dello spettacolo. Georgia, a sua volta, ammira la forza e la resilienza della madre, vedendola come un modello di comportamento. Il loro rapporto è la dimostrazione della forza duratura della famiglia e dell'amore incrollabile tra madre e figlia. Il percorso di Simona Tagli come madre non è stato privo di difficoltà. Ha affrontato una battaglia legale molto pubblicizzata per la custodia di Georgia, di cui ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al reality show Grande Fratello. Questo periodo è stato senza dubbio impegnativo sia per la madre che per la figlia. Tuttavia, con il tempo e la comprensione, Simona e il padre di Georgia, Francesco Ambrosoli, sono riusciti a instaurare un rapporto più amichevole per il bene della figlia. Questa riconciliazione ha creato un ambiente più stabile e positivo per Georgia, permettendole di crescere senza l'ulteriore peso del conflitto tra i genitori. La passione di Georgia Ambrosoli per il mondo dello spettacolo è innegabilmente un riflesso della sua educazione e dell'influenza della brillante carriera della madre. Condividere questa passione ha avvicinato ancora di più madre e figlia. Spesso partecipano insieme a eventi del settore, offrendo a Georgia preziose occasioni di visibilità e di networking. I consigli e l'esperienza di Simona sono risorse preziose per Georgia, che si muove nelle complessità del mondo dello spettacolo. Con il sostegno della madre e il suo talento, Georgia ha tutte le carte in regola per realizzare i suoi sogni e lasciare il segno nel settore. Georgia Ambrosoli, con il suo talento, la sua determinazione e il sostegno